Anche nell'Aretino il caldo record di questa settimana ha fatto segnare i 40 gradi da Montevarchi a Castiglion-Fibocchi fino a Stia, Alto, Casentino e Trebbio nel comune di Sansepolcro per arrivare a Ponte alla Chiazza. Qui i 40 gradi di massima si sono anche leggermente superati secondo le stazioni di rilevamento di Arezzo Meteo. Allora, ci sono dei record però siamo comunque un'associazione amatoriale e ci sono gli enti appositi che emanano continuamente dati ma ci sono dei record un po' in tutto lo stivale. Noi abbiamo una rete di monitoraggio amatoriale di webcam e di stazioni meteo che comunque sono sotto monitoraggio e comunque diamo anche dati scientifici a chi serve che comunque continuano a sfornare record sopra record non solo nelle nostre stazioni ma anche di altri colleghi di Siena, Firenze e così via. Ancora poche ore e l'AFA, dicono gli esperti, mollerà la presa. Nel nostro territorio la fortuna è stata l'escursione termica. In altre località non è stato così, le grandi città in testa. Abbiamo la fortuna che stiamo in una città che è Arezzo che comunque ha una forte inversione termica e quindi di notte ci fa respirare ma è garantito che nell'altra città non funziona così. Arezzo pensate che è una delle città più fredde d'Italia di notte d'estate. Quindi ci dobbiamo ritenere fortunati? Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie a queste montagne siamo un po' all'interno del prappennino, nelle campagne aretine si riesce sempre a respirare. Il giorno o di giorno comunque le temperature sono notevoli ma non confondete l'AFA perché ad Arezzo comunque il clima di giorno quando ci sono le temperature altissime è molto secco.